fratelli juventini e sorelle juventine più forti del vento più forti della tempesta più forti dei nemici più forti del covid qualsiasi cosa che ci è avversa che ci crea problemi che ci ostacola a noi ci fortifica perché noi siamo la juventus noi siamo i juventini manca quadrado per il covid pazienza manca sandro per il covid meno male manca di lì per il covid accidenti ma non importa non importa perché domani allo stadium domani sera alle 20 45 a parta parentesi sarebbe ora che cambiasse l'aula la juventus perché non so ne può più di andare a letto ai due di notte ma comunque questa è una parentesi personale che spero che molti di voi condivideranno chiusa parentesi domani sera alle 20 45 la juventus sarà di scena allo stadium contro il sassuolo attenzione sentite tinti alert alert luce rossa attenzione perché il sassuolo è la squadra italiana più simile in tutto e per tutto per allenatore per tipo di gioco e per corsa all'atalanta l'atalanta sono tre anni che ci mette in grandissima difficoltà il sassuolo ha iniziato lo scorso campionato a metterci in grandissima difficoltà non vedo non vedo perché non ci debba mettere in difficoltà domani sera domani sera dobbiamo stare molto attenti perché avremo una difesa totalmente rimaneggiata perché mancando quadrado e mancando del hit sicuramente ci saranno delle variazioni io mi auguro di vedere in campo de miral che sarebbe anche ora perché per me è un ottimo giocatore io trovo assurdo che nessun allenatore che l'ho avuto da sarri a pirlo lo mettono in secondo piano qualcosa sotto ci deve essere perché non è possibile che tutte le volte che va in campo figura bene fa la sua onesta partita e poi gli viene preferito un chiellini ormai morto o un bonucci ormai sul via del tramonto per cui qualcosa da capire c'è o un sandro inguardabile detto fra noi ma comunque queste sono considerazioni personali che ovviamente lasciano il tempo che trovano quello che è importante è che domani sera la juve deve fare una cosa mai fatta quest'anno in campionato ovviamente vincere tre partite consecutive non c'era mai riuscita abbiamo vinto con l'udinese il 3 abbiamo vinto con il minano il 6 e adesso ragazzi dobbiamo vincere domani sera con il sassuolo perché poi ci aspetta un turno infrasettimanale di coppa italia e poi la grande sfida contro i prescritti gli onestoni i cartonati coloro che non sono mai andati in serie b perché hanno praticamente comprato e pagato tribunali e giudici altrimenti si sarebbero già andati da un pezzo quindi quindi a proposito se dovevate dovevate fare il passaporto italiano parati cinedo e the company dovevate chiedere a oriali e all'inter e amoratti come si faceva voi non siete bravi in queste cose e per cui quando domani sera scenderanno in campo la juve e sassuolo io voglio vedere una juventus che non ha la mente altrove una juventus che è sul pezzo che attacca voglio vedere un ronaldo meno svogliato di mila juventus voglio rivedere lo stesso chiesa che ho visto in mila juventus voglio vedere una squadra insomma che capisce che questa partita che sulla carta potrebbe sembrare facile in realtà nasconde insidie inusitate e inaspettate perché domani sera il sassuolo verrà torino a viso aperto a giocare è vero che quando noi giochiamo a viso aperto partiamo in contropiede e se abbiamo in campo contemporaneamente cuo gli usi schierabio gli facciamo a fettine ma è anche vero che spesso i volontieri la bio e cuo gli usi schi sono solo in salata inciampano sul pallone o fanno cose anche un pochettino diciamo imbarazzanti da vedersi per cui bocce ferme mente focalizzata sulla partita cerchiamo di essere attenti in ogni piccola sfumatura di gioco non facciamo bonucci lanci inutili per cortesia e sei pregato di non fare lanci inutili ronaldo mi raccomando cerca di fraseggiare con i compagni di squadra anche domani sera dovrebbe essere un campo di balino e ovviamente di balino mi rivolgo a te siccome oggi poi ti dedicherò nel calcio mercato un video proprio specifico a te dove racconterò a tutti quanti la situazione attuale in evoluzione del contratto tra te e la juventus io mi aspetto che domani sera tu segni che fai gol è un bel gol mi aspetto un bel gol guarda se ti permetto anche di farne due mi voglio proprio voglio esagerare oggi ok puoi farne anche due quindi signori domani sera una partita che all'apparenza potrebbe essere banale invece nasconde come ripeto grosse insidie noi dobbiamo avere l'intelligenza e la voglia di bypassare questo problema e portare a casa tre punti fondamentali fondamentali perché se nel frattempo l'inter perde punti ancora visto che è di scena a roma contro la roma e non è impossibile che la roma possa fermare perlomeno ad un pareggio l'inter nel frattempo si fermerebbe anche la roma noi vincendo andremo terzi in classifica con una partita da recuperare e poi il big match di domenica prossima contro l'inter che noi da quando esiste il calcio abbiamo sempre sempre affrontato alla grande e superato a pieni voti per cui signori e signori vi aspetto tutti domani sera nel post partita per l'analisi per le pagelle e ovviamente fino alla fine forza juve forever endeavor uber halles eternally cr7 ragazzi siamo tutti con voi ciao 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 ciao